anche di regolamenti e di pagamenti che aveva messo in forte difficoltà i comuni sedi della giurisdizione. Quindi io credo che dopo due anni e mezzo si possa finalmente dire che questo Governo ha recepito quelle che erano le indicazioni da parte degli enti locali, soprattutto si è reso disponibile ad andare incontro alle richieste che venivano dalle amministrazioni comunali garantendo pagamenti pregressi e garantendo soprattutto una certezza per quelle che sono le annualità in corso. Mi piace pensare che questa interrogazione insieme naturalmente al lavoro dei colleghi in Commissione Giustizia sia stato da stimolo per riuscire ad ottenere questo risultato che è un risultato importante. Grazie onorevole Morani. Passiamo alle interrogazioni numero 3.517 e 3.910 della deputata Galgano e la numero 3.2310 dei deputati Ricciatti ed altri concernenti iniziative in relazione al progetto viario quadrilatero Marche Umbria, anche in relazione a presunte criticità in merito alla realizzazione della Galleria La Franca. Le interrogazioni, vertendo sullo stesso argomento, verranno svolte congiuntamente. Il Sottosegretario per le Infrastrutture e i Trasporti, Umberto del Basso De Caro, ha facoltà di rispondere. Prego, Sottosegretario. Grazie, Presidente. Rispondo congiuntamente agli atti dell'onorevole Galgano e dell'onorevole Ricciatti, in quanto vertono su un medesimo argomento. In relazione a quanto segnalato dagli onorevoli interroganti, ANAS rappresenta che il progetto viario quadrilatero Marche Umbria si sviluppa su una serie di interventi stradali idonei a migliorare ed incrementare l'accessibilità alle aree interne delle regioni interessate. Il progetto fu approvato dal Cipe con delibera numero 13 del 2004 ed è suddiviso in due maxilotti relativi alla strada statale 77, direttrice Foligno Civitanova Marche e il maxilotto numero 1, e alle strade statali 318 e 76, direttrice Perugia Ancona e Pedemontana delle Marche, maxilotto 2. I lavori di potenziamento della strada statale 77 Val di Chienti, tratto Foligno Colle Sentino, completamento 4 corsie, ricompresi nell'ambito del maxilotto 1, sono stati affidati con gara ad evidenza pubblica all'associazione temporanea di imprese costituita da Strabag, CMC e grandi lavori Fincosit, Grazie a tutti!